Ciao a tutti, benvenuti alla terza lezione di anatomia. Ora vedremo il manichino in tre quarti. Vedete che riparto esattamente da dove abbiamo lasciato la lezione numero due. Il manichino in tre quarti, a differenza di quello frontale di profilo, inserisce una nuova problematica, cioè il fatto che si dia un aspetto totalmente tridimensionale alla figura, mentre il fronte e il profilo perfetti sono delle silhouette bidimensionali, nel tre quarti abbiamo a che fare proprio con il corpo, la struttura del corpo, nelle tre dimensioni, per cui dobbiamo dargli una direzione, dobbiamo far capire che ci sono dei volumi, che ci sono delle cose abbastanza difficili da rendere. Quello che sto facendo ora non è altro che creare una via di mezzo a livello proprio di spessori tra il manichino frontale e quello di profilo, per cui vedete che per esempio il bacino non è largo come nella struttura frontale, ma non è anche tondo. Rimane un ovale però più schiacciato, perché ovviamente essendo di tre quarti la sua larghezza totale viene deformata dalla prospettiva, per cui abbiamo a che fare con una distorsione prospettica dell'anatomia. Il torace per esempio rimane ovale, però vedete che è come quando faccio le croci sulla testa per dargli una direzionalità, lo faccio anche con il torace. L'altro aspetto che dovete valutare è il fatto che le sfere che utilizziamo per fare le spalle, i gomiti, i poise eccetera eccetera, nel momento in cui la figura a tre quarti non sono più grandi uguali, ma quelle che rimangono più lontane rispetto all'osservatore vanno disegnate leggermente più piccole. In questo modo, solo utilizzando queste piccole differenze, riusciamo a dare già un senso di tridimensionalità alla figura, perché la prospettiva ci dice che due elementi uguali portati a distanze diverse risultano di dimensioni diverse, per cui due sfere identiche, una l'allontano e quella che è allontanato di fatto risulta più piccola. Visto che la percezione dell'occhio su un'anatomia è di questo tipo qua, è molto utile utilizzare queste differenze qui per dare già un senso di dinamica e di tridimensione alla figura. Quello che sto facendo adesso è proprio questo, il farvi vedere, esagerando ovviamente il concetto, che cosa potete fare solo utilizzando la struttura del manichino per fare dei modelli già molto molto tridimensionali. Vedete, ora farò il manichino, sto costruendo il manichino con le braccia aperte, però ho visto di tre quarti, quindi il braccio sinistro che sto disegnando adesso sta venendo verso l'osservatore, il braccio destro invece si sta allontanando dall'osservatore. Le tre sfere che delimitano spalle, gomito e polsi le faccio di dimensioni crescenti mano a mano che si avvicinano all'osservatore. Vedete? Mentre quelle del braccio destro le faccio decrescenti. In questo modo qua vedete che ho una percezione molto tridimensionale della figura senza aver ancora disegnato nulla che non siano le sfere e le rette che utilizziamo a costruire il manichino. Il concetto è questo, vedete questa è la struttura del braccio, tre sfere spalla, gomito e polso che però messe in prospettiva cambiano la loro dimensione mano a mano che si avvicinano all'osservatore e mi danno il senso della tridimensionalità della figura. Il concetto di costruzione del manichino è lo stesso anche quando dobbiamo fare delle cose dinamiche. Vedete che non perdo molto tempo all'inizio nel buttare giù la figura, utilizzo semplicemente questi concetti, i concetti visti nelle prime due lezioni, cioè butto giù in modo abbastanza grezzo quella che è la posa che voglio dare al mio manichino poi cosa faccio? Inizio a fare quelle considerazioni sulle proporzioni che abbiamo visto nella lezione 1, quindi le proporzioni tra le due parti delle gambe per cui devono essere più o meno il 50% del femore e il 50% della tibia. Valuto le proporzioni delle braccia rispetto alla lunghezza del corpo, valuto la grandezza della testa, la lunghezza del torace rispetto alle gambe, insomma faccio per tutte quelle considerazioni che abbiamo visto principalmente nella lezione 1 e che comunque dobbiamo riportarci su ogni passaggio del nostro lavoro. Un esercizio molto importante che consiglio di fare per sviluppare queste skill è quello di prendere delle foto da internet o da una rivista e iniziare a disegnare sulle persone in movimento il manichino. Quindi prendete la fotografia, io adesso utilizzo il digitale perché risulta molto comodo e poi sopra ci costruisco quello che dovrebbe essere la struttura del manichino. Mano a mano che la costruisco però non mi scordo tutti gli elementi trattati fino ad ora per cui vedete come gestisco a livello volumetrico le sfere per cui il gomito essendo più avanti del polso e della spalla per il gomito utilizzo una sfera più grande. Lo faccio in modo molto rapido però guardando bene di non perdere nulla, insomma dei riferimenti principali della figura. Ok? Lo faccio più ne fate di questa roba qua meglio è perché poi è una di quelle cose che vi aiuta a migliorare la manualità soprattutto in questa fase qua di costruzione che dovrebbe essere sempre molto libera, molto slanciata come modo di disegnare. La parte in cui vi concentrate, perdete tempo e fate tutta la figura leccata è quella più avanzata. In questa fase qua dovreste lasciare andare molto la mano e allenarvi a ottenere il miglior risultato possibile però senza perderci insomma troppe ore di lavoro. Quello che vi voglio mostrare adesso è un'applicazione pratica di quello visto fino adesso. Senza utilizzare nessun riferimento particolare provo a costruire qualcuno che sta saltando una staccionata. Per cui inizio a costruire il mio manichino partendo dai riferimenti per cui la prima cosa che creo è il punto di appoggio cioè la linea della staccionata. E poi inizio a lavorare sulla struttura. Solitamente quando costruisco la struttura soprattutto nelle pose dinamiche la doppia S della spina dorsale va a perdersi. In questo caso qua visto che l'inquadratura è un po' di tre quarti vista da sotto insomma un po' particolare. I volumi del bacino e della testa si sovrappongono per cui vedete che l'ovale della testa si sovrappone a quello del torace e l'ovale del bacino rimane sotto a quello del torace. Vedete che il corpo smette di essere la struttura smette di essere bidimensionale per cui diventa molto più complicato ecco riuscire a percepire queste cose qua. Adesso per esempio gli sto facendo la gamba la gamba piegata in avanti in questo modo qua per cui il ginocchio dovrà essere una sfera un cerchio più grande dell'anca e della caviglia. Vedete in questo modo qua riesco a dare una direzionalità alle masse solo dal punto di vista solo utilizzando delle linee delle sfere e con questo metodo qua vedete che la figura diventa molto dinamica e molto fresca e non ci sto perdendo tanto tempo però la cosa importante è che ho già definito i volumi cioè lo spazio che che occupa la figura ho già un'ottima dinamica della figura stessa e non ho perso tanto tempo anzi posso concentrarmi proprio sui dettagli sulle proporzioni sull'anatomia che è la cosa più importante pensate se mi metto a lavorare a perdere due ore per disegnare il braccio e poi ne ho sbagliate le proporzioni e poi l'altra cosa molto interessante è il fatto di poter cambiare in tempo reale ok le cose senza dover disegnare gli occhi perché ci siamo messi lì due ore a disegnare gli occhi e poi alla fine la testa era piccola oltre il fatto che c'è la possibilità di modificare velocemente le posizioni in un modo senza dispiacersi perché abbiamo lavorato troppo ok utilizzo le croci per dare direzionalità ai volumi e vedete che posso cambiare velocemente la posizione di una gamba piuttosto che della dinamica eccetera eccetera senza aver persore di lavoro e questa è la cosa importante c'è più tempo dedicato alla struttura e allo studio della struttura nella sua correttezza meno lavoro butterete via in fase di modifiche avanzate bene spero che la lezione vi sia piaciuta mettete un like sottoscrivete il canale e ci vediamo alla prossima lezione ciao ciao